no solo noi ma io voglio ritirare con quelli là pigliate la mira fate fuoco recuperate l'armi contro marcia per la dritta marcia poi un passo avanti compassate la miccia e ricaricate in automatico pigliate la mira date fuoco ricaricate l'armi contro marcia per la dritta marcia rimordine compassate la miccia pigliate la mira pigliate la mira passiamo parate i vostri tipieri date fuoco ricuperate l'armi contro marcia per la dritta marcia andiamo avanti stessa cosa adesso con la differenza che è l'ultimo ordine che va in avanti facciamo fuoco e avanzamento ok prima ordine compassate la miccia pigliate la mira date fuoco ricuperate l'armi ricuperate l'armi ricaricare terzo ordine terzo ordine pronti per la marcia marcia salto sempre a destra signori signori sempre a destra con passata la miccia con passata la miccia pigliate la mira date fuoco date fuoco ricuperate l'armi pronti per la marcia marcia alto primo ordine ciao